ben trovati comincia una nuova settimana su legal community tantissime notizie da leggere sul nostro sito ovviamente anche stamattina qualche esclusiva targata legal community punto it ma per questo editoriale voglio lanciare così uno spunto di discussione alla vigilia dell'inizio della due giorni della conferenza dell'associazione antitrust italiana un appuntamento molto importante 23 24 di maggio a firenze per chi dovesse essere in zona probabilmente può essere una buona occasione per occuparsi di tematiche che riguardano il diritto della concorrenza ma a proposito di concorrenza io mi sono domandato ad agosto del 2017 abbiamo finalmente visto venire alla luce la prima legge sulla concorrenza italiana sappiamo che quel testo è stato approvato dopo essere stato lungamente discusso il ferragosto praticamente nel 2017 ma sappiamo anche che quella legge dovrebbe essere una legge annuale ora a me ad oggi non risulta che ci sia stata una legge della concorrenza nel 2018 e che ci sia in discussione siano aperti lavori per una legge della concorrenza del 2019 magari mi sbaglio però se così non fosse io credo che abbassare l'attenzione sul tema della concorrenza in questa fase di mercati sia davvero un grosso rischio che il sistema paese non si può permettere di correre abbiamo tra l'altro un obbligo di legge che ci porta ad avere una legge annuale su queste tematiche beh credo che la politica il legislatore fra una polemica e l'altra un lenzuolo e l'altro uno striscione e l'altro uno slogan e l'altro forse dovrebbe anche ricordarsi di questioni cogenti come questa bene per questo editoriale tutto noi ci vediamo la prossima volta ciao